Buonasera, siamo qui con il mister Massimiliano Paluzzi del Real Podgora. Una vittoria convincente, che dà morale e che sicuramente dà uno scossone alla classifica. Sicuramente è stata una vittoria importantissima contro una grande squadra, in settimana abbiamo preparato molto bene, abbiamo giocato come volevamo giocare e soprattutto abbiamo messo loro in condizioni di giocare come volevamo noi che giocavano. Una formazione che aveva vinto quasi tutte le precedenti partite si trovava al secondo posto, quindi questo dà ancora più importanza alla vostra prestazione? Sì, noi eravamo consapevoli della forza, anche perché io essendo stato a Fondi conoscevo la maggior parte dei ragazzi, però la nostra ricordiamoci sempre che è una squadra giovani, con ragazzi che stanno crescendo, quindi l'obiettivo nostro è quello di lavorare in prospettiva. Certo, quello che viene tutto di guadagnato, stiamo lavorando bene, dobbiamo avere pazienza, ma sapevamo della nostra forza. Se stiamo concentrati come oggi per 60 minuti, difficilmente comunque sia rischiamo di giocare, di perdere le partite. Oggi siamo stati veramente impeccabili per 60 minuti, anche se in alcuni momenti abbiamo rischiato un pochetto.